Ciao ragazzi, io sono Falconer e oggi sono qua con un nuovo video dedicato a For Honor perché voglio provare questi dannati tornei La prima volta non è andata benissimo, adesso li proveremo sperando che le cose vadano bene, quantomeno che si riesca a giocare il torneo per intero Io vi chiedo solo oggi di avere tanta pietà nei miei confronti perché è una settimana che non tocco For Honor, è uscito l'inferno lo sapete, insomma, avete visto il canale anche voi Oh, l'attesa è stata abbastanza breve, devo dire, questa volta Faccio parte della squadra Squarciacuori Selvaggi Bene, il nome è tutto un programma e oggi mi sa tanto che vado di Kensei visto che appunto essendo diversi giorni che non gioco, forse è il più adatto per affrontare l'incubo Il destino beffardo mi ha associato nuovamente a un centurione peraltro in una mappa abbastanza piccola in cui io verrò preso a schiaffoni Vediamo di fare in modo che non finisca come al solito Io ormai ho il dito pronto sul conto spezzaguardia Ci riuscirò? Ecco E inizia bene, inizia bene Come sempre Come sempre Come sempre Aiuto Beh Chissà se arriverà un giorno in cui Ma poi io quello che mi chiedo è Ma Sta mossa, no? Oltre ad essere un accollo devastante Ma ti deve anche sbattere per terra Cioè Non c'è veramente modo di Di reagire Ma che c'entrava l'attacco ad aria adesso? Sì Sì È andata Miracolosamente è andata Dai, dai, dai Almeno un round me lo sono portato via Il gol della bandiera è stato portato a casa Il miracoloso gol della bandiera Per usare un gergo calcistico Adesso vediamo se riesco a farne due Capirai qua Qua è ancora più stretto Coefficiente di difficoltà raddoppiato Qua se mi parte con la combo Cazzotto Cazzotto Colpo in fronte Eccetera Non ne usciamo Sì Ma sì Ma è tipo la cosa più isperata di sempre Che sto vincendo un round Anzi, due round di fira Non ci avrei scommesso Mezzo centesimo Anche perché Mi sento un po' Ingessato oggi Con il fatto che una settimanella Che non tocco For Honor Faccio un po' fatica Vabbè, comunque Poi ho notato Che il tizio Ma Il tizio c'ha la tendenza Di fare questo attacco dall'alto Per caricare Vediamo un po' se Ma 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 Ho attaccato malissimo il tempo Ma basta con sto cazzotto Non ce la faccio più A essere preso a cazzotti Basta Niente Vabbè Era scritto Comunque Salvo Salvo sorprese La porto via Insomma Penso di aver capito un po' come gioca Adesso ovviamente Dopo che l'ho detto Perderò 3 a 2 Però diciamo che l'obiettivo Sarebbe quello di portarla a casa Credo di poterlo fare Voglio credere Di Di essere in grado Di Di farlo E lo farò Spero Dunque Round 4 Dai Posso non essere un Pungible Nella vita Sì Però Santo cielo Cioè Il colpo garantito A dispetto di quello che può succedergli intorno Cioè questa è una mossa che non puoi Non puoi Non puoi No 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 Calma e sangue freddo Guarda con chi Ma niente Eh io Io mi Mi ci lancio in fronte poi Niente vabbè Ah porca miseria Porca miseria Comunque per questo assalto dall'alto Che ignora completamente Qualsiasi tipo di reazione Da parte del nemico Devono fare qualcosa Secondo me Perché Se io parto con l'attacco Leggero Prima di lui E lui lo fa dopo di me Non può andare a segno lui Perché Cioè È come se saltasse completamente La mia animazione Nel momento in cui lui parte Con l'attacco dall'alto Per cui adesso Faccio così Che mi pare Siccome Ma porca Tanto abbiamo capito Che te fai quello Ma Oh E ce riesci A mollare il colpo Niente Non ce posso credere C'è veramente Una cosa Una cosa allucinante Una cosa veramente allucinante Era abbattibilissimo Se io fossi una persona normale A questo gioco L'avrei Sfondato 3 a 0 Purtroppo Non lo sono E Porca miseria Ma che fastidio Vabbè Che tocca fa Se sa che io Sto gioco Sono una pippa L'importante L'importante è provarci Certo è che nessun gioco Al mondo Mi fa uscire Da testa come questo Vabbè Vabbè Primo round Cioè Per primo turno Diciamo che è andato Come peggio Non poteva andare Perché Da 2 a 0 A 3 a 2 È veramente amara Amara Vera Ad ogni modo Secondo scontro Adesso ci abbiamo Tra un minuto Speriamo vada meglio E speriamo che non ci sia il centurione Perché non ce la faccio più A giocare contro i centurioni Cioè Sembra che ci sia solo quello Ormai Su Far Honor Dovunque giochi Qualsiasi modalità C'è sempre Centurioni a pioggia Allora Adesso abbiamo un berserker Contro Che potenzialmente È anche peggio Se il tizio Lo sa usare Come si deve Ma vediamo Che succede No Dai che è andata Dai 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 Forza Mamma mia Non mi sembra Particolarmente Forte In linea di massima Non Non noto Grandità Ti diciamo che il berserker Se non finti Con regolarità Come poi abbiamo detto Diverse volte È un personaggio Un po' così La sua forza Sono le finte rapide Cosa che lui Non sta facendo Ecco Ovviamente L'ho L'ho chiamata Niente Proprio Mi sono esposto Come peggio Non potevo fare E il tizio Giustamente Mi ha punito Con cattiveria Vabbè Ahimè Parto sempre bene Poi A sto gioco Non ce n'è Devo giocare Un po' più in difensiva Con lui Perché la sensazione È che se mi espongo Con lui Ho vita breve Invece la gioco Un po' più in difesa Forse Vediamo un po' Niente Io sto cercando Disparatamente Di parargli i colpi E non ci riesco Comunque sarei veramente Curiosissimo Di provare Questo gioco Su PS4 Con un Con un pad Della PS4 Cosa che non mi è mai capitata Perché ho la sensazione Che potrebbe essere diverso Non lo so Magari dico una cretinata Però a pelle Però a pelle Mi dà Di gioco Che potrei Giocare Più facilmente Con un pad Della PS4 Poi Peraltro Ultimamente Mi sto trovando Scomodo Con parecchi giochi Con il pad Della One Una cosa A livello proprio Di input Ma comunque Vabbè Niente È andata così Non riesco A fare Quello che vorrei È la partita Tanto bene Infatti Mi sa tanto Che visto l'andazzo L'ultima me la faccio Col berserk Perché Di chiudere Tristemente A zero Vorrei evitare Ma non Ci stanno Dei giorni Non so se capita Anche a voi I giorni in cui Ti sembra che I tuoi input Arrivino precisi I giorni in cui Gli input Arrivano un po' più lenti Che poi magari È semplicemente Una percezione errata Di quello che accade Non lo sto dicendo Che sia il gioco Però È strano Perché appunto Ci sono giorni In cui riesco a parare tutto Giorni in cui Non riesco a parare nulla Tipo adesso Nonostante Mi sembri Di avere il giusto tempismo Nel movimento del dito Per parare Eppure non viene Minimamente Colto Dal gioco Ad ogni modo Vabbè 6 punti 6 punti Ma tanto Da quel che mi pare Di capire Ci sono Passano tutti Nel senso Queste qualifiche Servono solamente Per determinare Poi Gli accoppiamenti Che ci saranno dopo Per cui Me ne frego Abbastanza Insomma Di quello che accade Adesso Speriamo 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 che Non ci mettano Contro Un mostro Sacro Del gioco Una volta Superate Le qualifiche Perché Già faccio Fatica con questi Che erano tutto Tranne che Fenomenali Onestamente Senza nulla Togliere a loro Ma Il destino Ha chiamato Un altro Centurione Contro di noi Come te sbagli Vabbè Allora Vediamo un po' Com'è sto tizio Sei spammone Spammone Vediamo un po' Sto cercando di capire Chi ho davanti Tanto provoca Dunque Dunque Dai Dai L'avevo fatto Il contraspezzo Guardia Maledizione Via 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 Che se me pia Senza stamina È la fine di tutto Niente Te faccio Corre Te faccio Corre a voto Tanto Prima o poi Ti prendo con la guardia Bassa No Sarebbe stato Meraviglioso Bello Bello Sì 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 Dai Con calma Con calma Prima o non lo vinco sempre E quello il dramma È dal secondo in poi Che iniziano i problemi Di solito Il berserker Se uno riesce a fintare Come si deve Niente Mi carichi Perché vuoi giocare Con i geyser Va bene Non devo dargli modo Ma porca Di esattamente quello Non devo Non devo dargli modo Di giocare Con Dispersa guardia Perché se no È la fine Se no Non ci vengo In mezzo ai geyser È inutile Che fai Il buffone Le corte Io sto qua Se vuoi giocare Sto qui Se no Perdi te Vabbè Ci guardiamo Io non ci vengo In mezzo ai geyser A farmi spingere Come se fossi Un birillo Se ti va Sono qui Tu guarda Veramente Sta Sta gente C'è tanto spazio Qua No Dobbiamo giocare In mezzo In mezzo A cosa Dove dice lui Io rimango Dove eravamo Se te va Stiamo qua Dopo un minuto D'attesa Se hai deciso A uscire fuori Facciamola finita Su Tutto sto cinema E poi giocare In quella maniera Vabbè Dunque E due round L'abbiamo portati via Che non è affatto male Adesso vediamo Se si riesce A portare via Al terzo Che è la cosa Un po' più complicata Siamo a metà Dell'opera Più o meno Via 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 Eh porca miseria Niente Oh E' bello E' che io Non faccio l'alto Che preme Sta Sta maledetta X Per far Contro Spezza Guardia In se riesce Ah Vabbè Gli sto regalando Il round Dietro Dietro Sì 3 a 0 secco Miracolo 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 Vabbè Andiamo avanti Col berserker Oggi Visto che ha portato Fortuna A sto cambio Forse è il caso Di continuare così Non sia mai Che Qualche sorpresa Oggi Si riesce Ad ottenere Isperata A sta vittoria Contro Centurione Veramente Isperata 3 a 0 secco Poi Che non lascia spazio A Recriminazioni Bene Allora Vabbè Tanto ordini Completati La mia marcia Verso lo shinobi Continua Inesorabile Va bene Allora Adesso Dovremmo aver finito Oh Bene Dunque Ci hanno messo Conti Cavalieri Del sole Nero Il nome Non è che Mi Che mi Entusiasmi Anzi Mi fa Abbastanza Paura Sentiamo La verità Però insomma Già Già che abbiamo vinto Una partita Mi sembra Una sorta Di miracolo Che insomma Nei tornei Come poi Mi avete detto Anche parecchi di voi Ci giocano Quelli un po' più Scafati Quelli un po' più Smaliziati Riuscire a batterne uno Beh uno che gioca Molto meno Di quanto vorrebbe Già è una bella Soddisfazione Che poi veramente For Honor è uno di quei giochi Che io Forse per me Ci giocarei 3 ore al giorno Ma Purtroppo Avendo un canale Che è Multitematico Nel senso Trattiamo un sacco Di prodotti diversi Mi è veramente difficile Allenarmi Tanto quanto vorrei E dedicargli il tempo Che poi meriterebbe Che Di cui avrei bisogno Io Per migliorare Sotto Tanti Tanti aspetti Sotto tanti punti di vista Io ho C'ho delle lacune Enormi a questo gioco Che non riesco a A A Risolvere in nessun modo Semplicemente Perché mi manca il tempo E non so particolarmente Portato E poi ci sono Sti centurioni Che Porca miseria Dietro ogni angolo So come Gli alien Nei film Quelli degli anni Degli anni passati Mamma mia Impressionante Come su Dieci partite Che uno fa Dieci duelli Nove So centurioni Ormai O gladiatori Perché pure quelli Vanno molto di modo A sto periodo Vabbè Partiamo con Zero aspettative Quello che viene Di meglio Lo 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 godremo Sai Fintare Sai Parare Anche piuttosto Bene E Aiuto Facile Come poche altre cose Al mondo Farmi Certo Mamma mia Mamma mia Quanto sto gioca male Mamma mia Mamma mia Non l'ho Sfiorato Spettrale Niente Vabbè Mi ha Mi ha massacrato Mi ha massacrato Mi ha veramente Massacrato Cioè Proprio Cioè Per non riuscire Manca a sfiorarlo Sono di un Prevedibile Mamma mia Secondo round Sono entrati In un pessimo Loop Psicologico In cui attacco Sempre A destra Vabbè Con questo Devo giocare In difesa Per quanto sia Teoricamente Impossibile Farlo Ma Ah oh Niente Non Sto cercando In tutti i modi Di fare qualcosa Del tipo Un perry Qualcosa Una schivata Che cazzarola Ne so Niente Non riesco a fa Nulla Quando mi chiudo In un angolo Un centurione Divento Completamente Inerme Mettete Mettete Metteteci pure Che vado In paranoia Perché Mi sembra Di non poter Fare nulla Per cui Perdo lucidità E il risultato È che so Due round Che mi ha fatto Due perfect Praticamente Per usare un termine Che ormai Non si usa Manco più È pazzesco Che non lo riesca A sfiorà Niente Non Non Io so Sto cercando Di fare un perry Da tre ore Non si riesce Vabbè Io Io Non so più Che cosa dire Sto pensando Seriamente Di mollarlo Questo gioco Dico la sincera verità Perché Tra Tra il discorso Che vi facevo prima Del non avere Il tempo materiale Per seguirlo Quanto meriterebbe Il fatto che Non sono particolarmente Portato E il fatto che ormai È diventato Un abuso Di meccaniche Universalmente note Per essere efficaci C'è veramente poco Che se possa fa Mi rendo conto Che farò Magari innervosire Quelli che hanno Come me In il centurione Però Regà È veramente Ingiocabile Giocarci contro Cioè se uno è bravo A usarlo E sa Come sfruttarlo Ecco A parità di Capacità Con il singolo eroe Credo che il centurione Sia uno dei più Inarrestabili Cioè non c'è Nessun altro eroe Così Dilaniante Così Limitante In termini di Qualità della partita Come il centurione Cioè se tu becchi Un Che ne so Una valchiria brava Un berserker bravo Qualcosa riesci a fare Il centurione Ti annulla Anima e corpo Tra Sbattimenti contro i muri E attacchi Imparabili È una cosa A cui io Non riesco a far fronte E leggendo in rete Sembra di non essere l'unico Per cui Diciamo che è stata Un'esperienza Abbastanza devastante Quella di oggi Ma comunque Andava fatta Detto ciò Dopo questo ricco Sveglione In cui mi sono Fatto prendere a schiaffi Ragazzi Direi che ci possiamo Sardare qua Abbiamo visto insomma Che i tornei funzionano Finalmente E funzionano anche bene Non ci sono stati problemi Di connessione Niente di niente Per cui diciamo Che abbiamo Sdoganato Sto problema Che sembrava essere Insormontabile Fino a qualche giorno fa Per cui niente ragazzi Fatemi sapere voi Che esperienze state avendo Nei tornei Se siete riusciti A vincerne magari qualcuno Cosa che a me Probabilmente non accadrà mai Ma Io continuerò a provare Per cui niente ragazzi Noi ci vediamo Alla prossima Ciao